E c'è il saluto del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Luca Sani, col quale anche non abbiamo solo interazioni con le Commissioni Ambiente, ma abbiamo interazioni con le Commissioni Agricoltura, con le Commissioni Industria, con le Commissioni varie riunite in forma comune. Buongiorno, un impegno imprevisto mi impedisce di essere presente al vostro importante appuntamento. Di questo mi scuso con gli organizzatori, gli invitati e i partecipanti tutti. L'edizione 2014 del rapporto sul consumo di suoli in Italia, redato dall'ISPRA, conferma l'urgenza di interventi legislativi efficaci per porre un freno a processi di urbanizzazione sempre più marcati. L'Istituto, con questo nuovo rapporto, mette a disposizione della comunità scientifica e del legislatore un prezioso strumento per la precisione dei dati, delle stime, sull'ampiezza del fenomeno e sull'impatto che determina sui territori. L'emergenza sta nelle cifre che il rapporto ci consegna. Nel 2012 ci sono 21.890 km2 coperti di cemento e asfalto, sottratti all'agricoltura. 10 metri cubi circa al secondo di suolo vengono consumati nel nostro paese, in un anno significa la scomparsa di una superficie equivalente alle città di Firenze e Milano messe insieme. La crescita così rapida di un consumo di suolo significa una riduzione della capacità di produzione di cibo, che come dimostra anche l'appuntamento Expo 2015, nutrire pianeta, Energia per la vita, sarà la vera sfida per i prossimi anni. Raccogliendo questa sfida e considerando nell'urgenza, testimoniata dalle risultanze scientifiche del vostro lavoro di monitoraggio, la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, congiuntamente alla Commissione Ambiente, ha accelerato l'iter di approvazione della proposta di legge assunta dal Governo in materia di valorizzazione dell'area agricola e di contenimento di consumo del suolo. Dopo aver concluso il ciclo di audizioni e aver ascoltato i pareri di gran parte del mondo associativo, di organizzazioni, di istituti di ricerca, di istituti competenti in generale, di portatori di interesse, sono stati fissati i tempi per gli emendamenti con termine a giovedì della prossima settimana. L'impegno delle Commissioni è di portare il test in aula nelle prime settimane del mese di maggio. Ritengo urgente completare questo lavoro avviato nella scorsa legislatura. Il nostro obiettivo è la tutela di una fondamentale risorsa ambientale e il contenimento delle più importanti e significative fonti di pressione che causano il consumo di suolo. Attorno a questo tema del suolo, come risorsa fragile e scarsa, c'è una grande questione dell'approvvigionamento alimentare, delle materie prime agricole, della tutela della biodiversità, del rischio idrogeologico, del paesaggio, del patrimonio boschivo. Infine, scusandomi di nuovo di non essere potuto intervenire personalmente al convegno di oggi, vorrei ringraziare l'ISPRA che con autorevolezza e competenza fornisce ai legislatori gli strumenti necessari per avere un quadro conoscitivo di straordinaria importanza. Grazie e buon lavoro a tutti. Presidente Luca Assani. Benissimo. Allora, so che Massimo De Rosa vuole intervenire. volevo semplicemente un annuncio, visto che facciamo pubblicità, visto che qua c'è ISPRA e ISPRA, noi abbiamo continuamente ripetuto il sistema agenziale ISPRA, anzi io lo inverto in modo tale da far capire che c'è un sistema e questo sistema agenziale ISPRA che si è voluto autodenominare, il legislatore non l'ha voluto accettare, ma si è autodenominato il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non più il sistema agenziale perché ha nature diverse all'interno, ma poca importanza, la sostanza è quella che conta, il 10 e 11 aprile presso la Biblioteca Nazionale celebra il ventennale della sua esistenza sulla carta, ma soprattutto della sua esistenza sulla carta, ma soprattutto della sua esistenza nei fatti, cioè il ventennale della legge 61, che in realtà non costituisce un sistema, costituisce alcuni elementi che poi hanno dato origine a ISPRA e alle agenzie regionali e provinciali, ma in questi vent'anni il sistema si è volontariamente e con alcuni aiuti legislativi minori rappresentato sempre più in forma coesa e congiunta. E lì noi faremo il punto di chi siamo, cosa abbiamo fatto, che cosa la nuova legge discursa, e ringrazio i componenti delle commissioni parlamentari, il Parlamento vorrà discuterla, del percorso seguito e dei risultati raggiunti, discuterà di come quella legge potrà darci una prospettiva. Si basa su alcuni eventi preparatori, tra cui questo, tra cui anche questo, uno sull'aria, questo, uno su ambiente salute, perché una delle frontiere è capire bene come relazionarsi senza confonderci, magari senza schiacciarci i piedi e magari senza infilarci le dita negli occhi e magari senza far danno al Paese tra la componente sanitaria e la componente ambientale, da cui nasce il sistema, da cui nasce da un referendum in cui di nuovo il popolo italiano ha detto di qua ci sta l'ambiente, di qua ci sta la sanità, devono relazionarti, ma hanno un discorso complessivamente da rapportarsi. Io credo che quel rapporto vada ulteriormente sviluppato, vada organizzato e quindi ritengo che l'evento a Brindisi, il primo è stato a Bologna e questa Roma, sia di estrema importanza per il futuro del Paese. C'è poi un terzo argomento che è stato scelto via web da, sostanzialmente, dalla... Salutiamo il Presidente Formigoni, lo ringrazio di essere intervenuto, lo chiamo subito al tavolo. No, Presidente, venga pure presso di noi, anche perché le darò immediatamente la parola. E quindi il 10 e 11 aprile l'argomento ulteriore è stato scelto via web ed è, era forse facile se ci scommettevamo sopra, i rifiuti. Quindi sarà trattato l'argomento dei rifiuti come l'ulteriore argomento di cui da approfondire durante quel congresso nazionale, che è il dodicesimo, però è un congresso particolare, come ho detto, perché è quello del ventesimo dalla legge 61, quindi dalla fondazione degli elementi del sistema agenziali nazionale. È arrivato proprio in tempo cronometrico. Allora, l'Onorevole Roberto Formigoni, Presidente della Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato, allora rimandiamo al dibattito dopo il suo intervento, a cui cedo immediatamente la parola. Vi dispiace, abbiamo seguito un po', abbiamo presentato i risultati, lei ha avuto il rapporto, l'abbiamo inquadrati in un disegno più generale relativamente al suolo, l'abbiamo inquadrati nel rapporto con la Commissione Europea e quindi anche sulle politiche europee, l'abbiamo inquadrati nel lavoro del sistema agenziale, come lei sa, mi è anche personalmente molto chiaro come sistema distribuito, l'abbiamo inquadrato in lavori recenti che abbiamo fatto con diversi soggetti, sia scientifici, tecnici, di servizio, sia regionali che statali e questo è il punto a cui siamo arrivati.